Om Saccita Nanda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sametthana Shri Bhagavati Nama Om Saccita Nanda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Nama Gli antenati, la morte Hai progettato la tua vita futura in base alle lezioni che hai bisogno di imparare e hai creato desideri da soddisfare. Il divino esaudisce sempre le tue preghiere. La vita è una scelta autocreata, non è una costrizione. Per interrompere il ciclo di nascite e morti devi rispettare i termini del contratto sacro, devi disimparare l'offesa e l'odio, imparare il perdono e l'amore. La fioritura del cuore e il risveglio al divino sono i grandi doni che la vita ha in serbo per te. Shri Bhagavata Shri Bhagavati Sammita Shri Bhagavati Namaha Om Sacchi Dharanda Orvati Sammita Shri Bhagavati Namaha Om Sacchi Dharanda Parabrahmat Shri Bhagavati Nama